Ben ritrovati cari amici di Xtreme Hardware, qualcuno di voi l'avrà visto abbiamo superato finalmente i 1000 iscritti sul canale di Youtube per questo traguardo è giunto quindi il momento di estrarre e di comunicare l'estrazione già stata fatta, il vincitore del Contest LampTron ovvero colui il quale si porterà a casa un controller LampTron CW611 l'estrazione come immaginerete è stata fatta con tecnologie avanzatissime e quindi è giunto il momento di dirvi chi ha vinto il fortunato vincitore del LampTron CW611 è Alessandro Colucci quindi complimenti Alessandro, hai vinto il controller, verrai contattato dalla redazione così ci potrai lasciare il tuo indirizzo e quant'altro e ti verrà spedito direttamente a casa il controller LampTron CW611 quindi complimenti, colgo l'occasione per ricordarvi che vi sono altri contest in atto e quindi di continuare a seguirci e di partecipare anche agli altri contest detto questo vi saluto, vi ringrazio ancora per l'iscrizione e vi ringrazio per il fatto che ci seguite un saluto quindi da me e da tutta la redazione di Xtreme Hardware ciao a tutti